che lavorano così bene, ma in ogni caso questi psichiatri, questo nucleo di psichiatri prende in esame cartelle di pazienti che non conosce ma che sono stati a loro segnalati. L'insieme di queste cartelle viene indicato a dei supervisori, i supervisori sono tre, il loro indirizzo, Tiengartenstrasse numero 4, naturalmente non stanno fisicamente lì, ma è da lì che viene smistato questo traffico e queste persone sono dei luminari della psichiatria, sono e anche i loro colleghi che preparano le cartelle sono spesso gli psichiatri più progressisti del ventennio precedente, gente che aveva fatto di tutto per affrontare la malattia mentale nel miglior modo possibile, guardate che questa gente era davvero un faro per gli studenti, per altre nazioni, quello che avevano scritto e provato a fare era un esempio per tutti, sono queste le persone che poi si ritrovano a gestire le cartelle cliniche per l'eutanasia di Stato, cartelle cliniche che vengono affrontate con una penna bicolore, ciò che viene chiesto alluminare è mettere un segno, più o meno, che cosa vorresti? Se ti danno il più sei promosso, sei ammesso al trattamento, se ti mettono meno resti in manicomio, se ti mettono al punto di domanda vuol dire che sei sulla strada buona ma devi fare di più per essere trattato. Sei centri di eutanasia con i nomi che vi ho detto prima, sparsi nel territorio della Germania, smaltiscono un traffico che evidentemente parte dai singoli manicomi. Con i bambini si usano le iniezioni, con i malati di mente si usa il gas, si è sperimentato lì, l'uso del gas, essi vengono trasferiti dalla terza società del progetto Action T4, è tutto ben organizzato, si chiama Società di Pubblica Utilità di Trasporto. Sono dei grossi pullman con i vetri oscurati, in base a delle bolle d'accompagnamento, prelevano i loro pazienti. C'è un breve preavviso per avvisare il personale degli ospedali psichiatrici dei prelievi. I trasferimenti avvengono su questi pullman, ma è evidente che il personale che ne fa parte, che ci viaggia, non è abituato a trattare con dei malati. I bravi infermieri se ne accorgono subito se uno ha paura. Perché vuol dire che non sai lavorare con dei pazienti. Certo che non sanno lavorare, altrimenti perché diavolo mettono la camicia di forza a chiunque abbia più di dieci anni. Perché quelli che sono allettati vengono incatenati dove vuoi che vadano, le ammassano sui pullmini. Non sono ancora i convogli con i vagoni piombati che vanno alle fabbriche dello sterminio, ma da qualche parte bisognerà pur imparare a movimentare la gente. E allora un pullmino dà meno problemi di un treno intero. 30, 40 persone ammassate lì dentro per viaggi che Hitler gli vada riconosciuto ha costruito grandi opere pubbliche come le autostrade, non erano certo confortevoli e se duravano due giorni li facevano impazzire. Due giorni senza mangiare, due giorni senza bere, due giorni dentro una camicia di forza. Diventano matti. Non è una consolazione sapere che qualcuno lo era già, no? Perché la paura è qualcosa che ha a che fare con l'umano e trascende, trascende, è contagiosa, è contagiosa. Quanto male puoi stare due giorni lì dentro? Beh, tanto. Sei vita indegna di essere vissuta, sei al di sotto di un parametro. Quindi quando arrivi comunque sia dignitosamente in questi luoghi, lì si mandava a fare una doccia ma spesso dopo la doccia non c'era più bisogno d'altro. I malati trasferiti dai manicomi in questi centri vengono uccisi praticamente subito o quasi subito ma è importante fare presto perché è importante contenere le spese perché c'è un altro carico che sta arrivando. Le attenzioni venivano date, veniva fatta una visita medica di precisione prima di avviare alle camere a gas in forma di docce. Questa visita medica serviva a verificare l'eventuale presenza di denti d'oro. Chi li aveva veniva marchiato con un pezzo di nastro adesivo sulla schiena perché era un peccato buttarlo via, era un peccato buttarlo via. I corpi venivano cremati ovviamente, nei forni ovviamente. Così andava. Cominciava con una lettera di questo tipo. Lo informo che suo figlio, in base alla pianificazione economica e alle misure di sgombero, è stato trasferito in altro ricovero. Non sappiamo in quale. L'ordine di trasferimento è partito da uffici superiori secondo la direttiva del commissario di difesa del Reich. Il nostro ospedale non ha possibilità di influire sulla decisione del trasferimento o meno dei pazienti. Lei sarà informata a tempo debito dal nuovo ospizio sullo stato di salute di sua figlia. Questa è la risposta della madre. Oggi ho ricevuto la sua lettera proprio quando avevo finito di prepararmi per prendere il treno di mezzogiorno per venire a trovare la mia figliola all'ospedale. Ero paralizzata dallo spavento leggendo la lettera. Una cosa del genere è terribile per una madre. Se avessi saputo che un nuovo trasferimento della mia ragazza sarebbe stato possibile avrei insistito per portarmela a casa. Lei mi informa di non sapere dove essa sia stata trasferita. Ma sicuramente lei non può permettere un trasferimento senza essere a conoscenza di dove andrà. Quindi io esigo di sapere dove è mia figlia. All'inizio del ricovero io stavo male perché molte persone mi facevano girare la testa con brutte parole. Da quando ho iniziato a venire a trovare regolarmente la mia figlia Elisabetta nel reparto per l'assistenza esperta dei bambini creato anche nel vostro ospedale. Ho creduto che le mie preoccupazioni iniziali fossero ingiustificate. Non è come diceva la gente, pensavo. Fino ad oggi ho pensato che la ragazza fosse stata data in buone mani. Le chiedo sotto la mia responsabilità di riprendere la ragazza nel suo ospedale. Io la verrò a trovare. È impossibile per me informare i miei familiari di quanto è accaduto. Mi salteranno addosso, mi diranno non è possibile che tu, sua madre, non sai dov'è tua figlia. Io non posso fare niente. Per prima cosa devo sapere dov'è la mia ragazza. Come già detto, mi sembra impossibile che potete trasferire una ragazza senza aver chiesto prima i genitori. Se succedesse qualcosa alla ragazza siamo in grado di pagare i funerali. gentile signora siamo molto spiacenti in dover comunicare che sua figlia trasferita 19 febbraio 1939 in questo istituto per decisione del commissario alla salute del Reich è deceduta improvvisamente il 18 gennaio per arresto cardiaco. Considerando la gravità della malattia da cui essa era affetta la vita per la defunta non era che una sofferenza per cui la morte deve essere considerata una liberazione. Essendoci in questo periodo pericolo di epidemie all'interno dell'istituto le autorità di polizia hanno ordinato immediata cremazione della salma. La preghiamo di comunicarci a quale cimitero inviare urna per le ceneri. Per ogni informazione la preghiamo di scriverci perché le visite sono proibite da polizia per ragioni sanitarie. 5.000 sono i bambini più o meno ufficialmente censiti in action T4 come sterminati ma 5.000 madri non sono censite ma prima o poi l'avranno capito che cosa hanno fatto o no. Nessuno è stato trattato senza il consenso dei genitori. Il consenso era un trattamento ma cosa hanno fatto quando l'hanno capito? Chi ha scritto quelle lettere? si chiamano segretarie di conforto o un mestiere poco invidiabile dovevano personalizzare le lettere per fare in maniera che non si assomigliassero ma erano migliaia migliaia di lettere. Le segretarie di conforto erano probabilmente le uniche persone letterate all'interno di quella organizzazione ma dormivano in caserma insieme agli autisti e ai facchini che movimentavano i pulmini e ai fochisti che alimentavano i fornicrematori perché quella società Action T4 di fatto nelle sue sei sedi di attività non teneva contatti con l'esterno è come se è come se un esercito occupante si muovesse all'interno di una nazione i festini li facevano tra loro ci sono cronache raccapriccianti di come passavano il tempo io immagino che dovessero sfogarsi immagino anche che avere un posto remunerato lontano dal fronte in tempo di guerra fosse considerata una buona soluzione per cavarsela comunque sia Action T4 finisce improvvisamente il primo settembre 1941 così come era cominciata il primo settembre 1939 in maniera ufficiale con la lettera di Hitler che è un falso storico perché questa lettera in realtà lui la firmò due mesi dopo d'accordo il primo settembre del 1939 doveva invadere la Polonia aveva altro da fare ma è interessante che la firma su questo atto sia stata predatata il primo settembre perché? perché se devi ammazzare la gente una legge che coincida con l'inizio di una guerra è più sopportabile è come se ci fosse uno stato marziale ma il primo settembre la guerra non è stata dichiarata solo al resto del mondo ma anche ai propri cittadini al di sotto dei parametri e credimi se tu riesci ad ammazzare i tuoi figli puoi far fuori degli estranei risulta meno difficile comunque si interrompe tutto il primo settembre del 1941 perché? è un'operazione molto riservata questa squadra di gente lavora in maniera discreta tutto è stato bene organizzato ma anche in una dittatura non riesci a censurare i necrologi è morto lo zio Hans ah lo zio Hans era matto lo zio Hans sì era in manicomio lo zio Hans finché era vivo era un bel rompiballe lo zio Hans ma quando muore diventa il povero Hans è incredibile quanti meriti acquistiamo quando moriamo è morto il povero Hans e tutto il paese dice ah il povero Hans il povero Hans e dove è morto? ad Adamar anche lui guardi la pagina dei necrologi quel giorno mettice ce n'è un altro morto ad Adamar ma magari qualcun altro se in due anni in sei manicomi muore